La prima tappa del terzo giorno di pellegrinaggio in Terra Santa di Papa Francesco è stata alla spianata delle moschee di Gerusalemme, dove ha visitato la cupola della roccia, il santuario islamico che è accanto alla moschea di Al-Aqsa, terzo luogo sacro dell'isla. Quindi nella sede del Gran Consiglio sulla spianata delle moschee, il Pontefice ha incontrato il Gran Mufti di Gerusalemme, Sheikh Muhammad Ahmad Hussein, e nel suo discorso ha definito i fedeli musulmani, fratelli, cari e amici. Papa Francesco ha lanciato un appello a tutte le persone e le comunità che si riconoscono in Abramo, musulmani, cristiani ed ebrei. Rispettiamoci e amiamoci gli uni, gli altri, come fratelli e sorelle. Impariamo a comprendere il dolore dell'altro. Nessuno strumentalizzi per la violenza in nome di Dio. Lavoriamo insieme per la giustizia e la pace.